Ci ha raggiunto nei nostri studi, come vedete dall'ospite al mio fianco, Paolo Stratta, ben trovato. Grazie e buongiorno, buonasera a tutti. Con Paolo Stratta, ricordiamo, parliamo di Circo Vertigo e parliamo nel particolare del Vertigo Christmas Show che vi vede impegnati fino al 6 gennaio. Sì, siamo in scena fino al 6 gennaio, il debutto è stato incredibile, mille spettatori in due repliche, ci riconciliamo con il nostro pubblico, è la grande buffata di Natale e delle feste, si ride, ci si emoziona in un clima di festa straordinario. Ma come è nata l'idea? Perché è proprio, possiamo dire, realizzato ad hoc per il Natale. Sì, lo spettacolo di quest'anno ricrea il clima della festa, è un gruppo di giovani che si ritrova per un'occasione di festa che in questo caso è il Natale, ma potrebbe essere qualunque incontro appunto tra una comunità di giovani scatenati. La bellezza di questo spettacolo è che il pubblico, e l'abbiamo visto anche dai primi messaggi, quando arrivano i messaggi poi su WhatsApp dagli spettatori vuol dire che lo spettacolo è davvero piaciuto, oltre alla tecnica, all'emozione, il sogno che si vive in quest'ora e mezza di spettacolo, si percepisce proprio un clima di grande affiatamento, di grande divertimento, che è tipico delle feste di Natale. Uno spettacolo tra immaginazione e realtà, insomma, non si capisce dove sono i confini. Allora, certo, perché il circo ha la possibilità magica di rendere possibile l'impossibile, quindi è difficile capire dove si interrompe il sogno, dove inizia la realtà, però, come dire, l'atmosfera che si vive, che si percepisce, è davvero unica, è comunque un sogno, è una meraviglia per quasi due ore per tutte le famiglie e tutti gli spettatori che sono venuti. Ricordiamo, il Teatro Leserre di Grugliasco vi vede protagonisti, peraltro ti ringraziamo per aver dedicato del tempo a noi, perché siete proprio in pieno dell'attività. Siamo nel pieno dell'attività. Il Teatro Leserre a Grugliasco, la grande produzione di Natale, poi abbiamo da qualche anno anche degli spettacoli che invadono il centro di Torino, il Teatro Caffè Müller in via Sacchi, che è uno spazio che la Fondazione Circo Vertigo ha recuperato, grazie alla tenacia di Caterina Mocchi-Sismondi, che è la direttrice artistica, e nel Natale deroghiamo un po' sui, diciamo, i binari della ricerca, ci concediamo di più a un linguaggio, come dire, più vicino alla festa, e quindi quest'anno è la comicità del clown, che si sposa con il Teatro di Torino, clown italiani di teatro necessario, e poi fino al 6 di gennaio, compresa la notte di Capodanno, con dei clown francesi incredibili che si chiamano le Rua Vagabond, che abbiamo opzionato più di tre anni fa per averli a Torino con noi. E quindi è una festa, un Natale, un Capodanno, una Befana di grande eccezione, sia per Grugliasco sia per Torino. Siamo bravi, riusciamo a far entrare tutti, i primi spettacoli sono andati al Sold Out, il Capodanno si sta esaurendo, però diciamo che abbiamo una segreteria, una biglietteria incredibile che riesce a smistare sulle date in maniera importante, in maniera molto, come dire, solidale, quindi non abbiamo mai lasciato fuori nessuno, anche se da ormai, da qualche anno, gli spettacoli sono tutti esauriti. Quindi muovetevi, c'è ancora posto, ma bisogna farlo con celerità. Circovertigo.com è il sito su cui si trova tutto, caffemuller.it, e poi i social network e i nostri uffici di Torino di Grugliasco. Mi pare che mai come quest'anno ci stia ruotando l'interesse attorno agli spettacoli teatrali dal vivo, insomma, l'interazione forse... Sì, sta funzionando qualcosa di più. Fortunatamente dopo alcuni mesi nell'ultimo anno, nell'anno passato, con qualche segnale intermittente, diciamo che siamo tornati a, credo forse anche a beneficio di tutto il settore dello spettacolo dal vivo, a un momento di maggiore contatto col pubblico. Noi abbiamo sempre fatto grandi numeri, abbiamo quasi sempre fatto di tutto esaurito, soprattutto con gli spettacoli di Circo Contemporaneo, ma da sei mesi a questa parte abbiamo visto che sulla stagione anche i titoli di teatro, di danza, di musica, stanno rispondendo molto bene. Quindi sono molto ottimista. Credo che la strada che abbiamo in percorso, come Fondazione Circo Vertigo, stia, come dire, in salute, ci sia un riconoscimento, una riconoscenza anche da parte del nostro pubblico, e poi stranamente i titoli nostri sono quelli che vanno sempre più di tutti gli altri, anche se le nostre stagioni sono zeppe di autori importanti, come Neri Marco Re, e tanti altri artisti di grande spicco. Va bene, allora, Paolo Stratta, Vertigo, Christmas Show, ci sono degli orari particolari per lo spettacolo? Ci sono delle doppie? Ci sono tante recite doppie, anche alcune triple, quindi accontentiamo sia gli spettatori che amano il pomeriggio, sia gli spettatori che tradizionalmente preferiscono la sera, anche al caffè Münder, con il coraggio di ospitare anche delle opere, quindi per tutti i gusti. E che sono agli albori. Va bene, Allora, ringraziamo Paolo Stratta per il Vertigo Christmas Show, grazie. Grazie.